Il progetto video All'inizio pensavo fosse per la mia mancanza di opinioni, perché ogni volta che i fratelli proponevano modifiche, non ne valutavo la validità in base ai principi e attuavo ogni loro suggerimento. Alcuni non erano molto sensati e ciò comportava ritardi. Dopo essere stata potata e trattata tramite la parola di Dio e riflettendo su me stessa, ho capito che dietro la mia mancanza di idee c'erano intenzioni spregevoli e un'indole satanica. Questo accadeva mesi fa. Poi sono capitati dei fratelli che si aggrappavano alle proprie opinioni senza accettare suggerimenti, cosa che ha compromesso il lavoro. Il leader ha più volte condiviso, ma non sono cambiati e sono stati rimossi. Ho pensato, se gli altri mi daranno consigli, dovrò ascoltarli. Questo facevo appena finivo un progetto video. Se gli altri mi davano consigli, li accettavo quasi sempre, anche se erano questioni irrilevanti che non serviva a cambiare. In realtà, alcune modifiche non seguivano i principi e altre mi sembravano solo banali ritocchi. Ma temevo che, se le avessi rifiutate, il mio supervisore e gli altri avrebbero pensato male di me. Mi avrebbero ritenuta incapace di ascoltarli? Se fossi sembrata incapace di accettare la verità, mi avrebbero subito sostituita? Inoltre, non ero sicura delle mie opinioni. Se mi fossi sbagliata e non avessi fatto una modifica e il problema fosse emerso quando il video era online, ne sarei stata responsabile. Ci riflettevo e, per andare sul sicuro, facevo tutti i cambiamenti suggeriti. A volte, mi davano consigli diversi, così facevo più versioni e chiedevo al mio supervisore di scegliere la migliore. Durante le discussioni, ne parlavo con i miei fratelli per decidere insieme. Avevi paura di sbagliare? Sì. Pensavo, il mio supervisore e vari fratelli hanno preso questa decisione. È l'opinione della maggioranza, quindi non dovrebbero esserci problemi. Questo è il modo più sicuro. Se qualcosa andasse storto, la responsabilità non sarebbe solo mia. A volte, ricevevo molti suggerimenti e non ero sicura di come modificare. Così, chiedevo al mio supervisore di aiutarmi a decidere. I consigli a volte erano troppi e non sapevo cosa fare. Questo mi rendeva improduttiva. Di continuo, chiedevo aiuto agli altri durante le discussioni per decidere tra i vari suggerimenti. Ciò toglieva tempo ai loro doveri, rallentando così il lavoro. Una volta, ho creato uno sfondo per un video. Doveva riflettere la sofferenza delle persone che vivono nel peccato. Così l'ho fatto scuro e retroilluminato. Ad alcuni fratelli non piaceva, lo ritenevano troppo scuro e mi hanno suggerito di schiarirlo un po' e aggiungere qualche effetto. Non ero del tutto convinta. Dato il tema, un'immagine luminosa non indicava persone che vivono nell'oscurità e aggiungere luminosità avrebbe violato delle leggi. Quindi non condividevo quel suggerimento. Ma poi ho pensato che, dato che in molti erano d'accordo, se non l'avessi fatto e il video fosse risultato compromesso, sarei stata io la responsabile. Ero combattuta. Ma poi anche il leader era d'accordo. Così sono scesa a compromessi. Se avessi detto la mia, ossia che non approvavo, non avrebbero pensato che persistevo sulle mie idee? O che cercavo scuse per non fare modifiche e risparmiarmi il fastidio? Così ho fatto la modifica. In caso di problemi, non sarebbe stata solo colpa mia, perché avrei modificato il video come volevano tutti. Sentivo che era un cambiamento inappropriato, ma ho lo stesso dedicato tempo a modificare l'immagine. Con mia sorpresa, una volta finito, il supervisore l'ha valutata in base ai principi pertinenti. Non l'ha trovata realistica e mi ha detto di cambiarla. Ha aggiunto che ero stata passiva nel mio dovere, che non avevo opinioni sui suggerimenti e ostacolavo il progresso del lavoro. Mi ha chiesto di riflettere. Ci ho messo tanto a calmarmi. Mi sentivo in colpa. Avevo speso tanto tempo a modificare l'immagine e ora dovevo ricambiarla. Cosa che ha rallentato il lavoro. Giusto. Ho capito che in quel periodo, ogni volta che ricevevo suggerimenti, in realtà avevo le mie opinioni. Ma per non risultare arrogante, non le esprimevo. Quando nutrivo dei dubbi, non cercavo i principi della verità, mi limitavo a lasciar decidere gli altri e facevo le cose in base ai loro ordini. Svolgevo il mio dovere in modo passivo, rallentando il lavoro della casa di Dio. Ho pregato davanti a Dio per chiedergli di guidarmi a riflettere su me stessa. Ho visto una videolettura delle parole di Dio. Guardiamola insieme. Va bene. Dio Onnipotente dice, «Coloro che compiono un dovere nella casa di Dio devono essere persone che si fanno carico del fardello del lavoro della Chiesa. Si assumono le proprie responsabilità, sostengono i principi della verità, soffrono e ne pagano il prezzo. essere carenti in queste aree significa essere inadatti a compiere un dovere e non possedere i requisiti per il suo adempimento. Ci sono molte persone che hanno paura di assumersi la responsabilità di compiere un dovere. La loro paura si manifesta principalmente in tre modi. Il primo è scegliere un dovere che non richieda di assumersi delle responsabilità. Se un leader della Chiesa affida loro un dovere, per prima cosa chiedono se debbano assumersi qualche responsabilità. Se la risposta è sì, lo rifiutano. Se invece non è richiesto che si assumano responsabilità, lo accettano malvolentieri. devono comunque verificare se il lavoro sia faticoso o gravoso e, nonostante la sua accettazione forzata, non sono motivati a svolgere bene il loro dovere e scelgono comunque di farlo con superficialità e negligenza. Tempo libero, evitare la fatica e nessun impegno fisico. Questo è il loro principio. Il secondo modo è che, quando si trovano in difficoltà o affrontano un problema, la prima cosa che fanno è riferirlo a un leader perché sia lui a gestirli e risolverli, nella speranza così di risparmiarsi ogni fastidio. Non si preoccupano di come il leader gestisca la questione e non se ne interessano. Fintanto che non ne sono personalmente responsabili, allora tutto va bene per loro. Questo modo di compiere il proprio dovere è leale nei confronti di Dio? Questo è fare a scarica barile, trascurare il proprio dovere, essere degli scansa fatiche. Sono tutte chiacchiere, simili individui non fanno nulla di reale e pensano tra sé e sé, poiché sono io a dover gestire questa cosa, che succede se poi sbaglio? Una volta che avranno esaminato la questione, non sarò io alla fine a essere ritenuto responsabile? La responsabilità non ricadrà prima di tutto su di me? Questo è ciò di cui si preoccupano. Ma credi che Dio possa esaminare ogni cosa? Tutti commettono errori. Se una persona dalle intenzioni corrette manca di esperienza e non ha mai gestito una certa questione in passato, ma ha comunque fatto del suo meglio, Dio lo vede. Devi credere nel fatto che Dio scruta ogni cosa e il cuore dell'uomo. Chi non crede nemmeno a questo? Non è forse un miscredente? Che significato potrebbe avere affidare un dovere a persone di questo tipo? C'è infine un altro modo in cui manifestano la loro paura di assumersi delle responsabilità. Quando compiono il loro dovere, alcune persone si limitano a svolgere qualche lavoro superficiale, semplice, e che non comporti alcuna responsabilità. Scaricano sugli altri i lavori che comportano difficoltà e assunzione di responsabilità e, se qualcosa va male, addossano a loro la colpa e ne escono puliti. Quando i leader della Chiesa vedono che sono irresponsabili, offrono loro pazientemente aiuto o li potano e li trattano, in modo che imparino ad assumersi le responsabilità, ma loro continuano a non volerlo fare e pensano, è difficile svolgere bene questo dovere, devo assumermi io la responsabilità quando le cose vanno male. Potrei anche essere scacciato ed espulso e a quel punto per me sarà la fine. Che tipo di atteggiamento è questo? Se non si ha senso di responsabilità nel compiere il proprio dovere, come si può svolgerlo bene? Chi non si spende sinceramente per Dio non può compiere bene alcun dovere e chi teme di assumersi delle responsabilità non farà altro che ritardare le cose nel compimento del suo dovere. Tali persone sono indegne di fiducia e inaffidabili. Svolgono il loro dovere solo per ottenere in cambio del cibo. Simili a cattoni, non andrebbero forse cacciati via? Sì. La casa di Dio non vorrebbe mai persone di questo tipo. Amen! La parola di Dio rivelava il mio stato. Ho ripensato al mio adempimento dei doveri. Quando ricevevo tanti consigli, capivo che alcuni non erano validi, alcuni erano inutili o in contrasto con i principi. Ma preferivo non ignorarli, perché in caso di errori sarei stata sola a risponderne. Sarei sembrata un arrogante che non accetta la verità se mi fossi fissata sulle mie idee. Quindi mi adeguavo alle opinioni di tutti, accogliendo tutti i suggerimenti. Addirittura realizzavo più versioni, delegando la decisione al supervisore e ai fratelli. Per paura di assumermi la responsabilità, non ho mai voluto prendere decisioni. Pensavo che fosse il modo più sicuro, perché decidendo in gruppo, i problemi erano improbabili e se ce ne fossero stati, non sarei stata sola. Sembrava che fossi dedita ai doveri e proteggessi il lavoro della casa di Dio, ma in realtà consideravo solo i miei interessi personali. Pensavo ad evitare le responsabilità e a proteggermi. Non era forse un inganno? Fare il mio dovere così era pura mano d'opera e obbedienza agli ordini. Non mi sono mai preoccupata delle cose. Ero irresponsabile, non consideravo gli interessi della casa di Dio. Ero priva di umanità. Chi compie sinceramente il proprio dovere di fronte a problemi che non comprende, ricerca la volontà di Dio e i principi della verità, svolgendo il proprio dovere in armonia con Lui. Mentre io ero del tutto falsa e negligente nel mio dovere, aspettavo solo di ricevere ordini come un operaio. Non risolvevo i problemi con i principi della verità. Eseguire così il dovere era lontanissimo da Dio. Facevo solo il mio lavoro, ero meno di un servitore. Giusto. Chi compie un dovere come un mero sforzo superficiale è come un miscredente che lavora per il suo capo. Dio non approva un simile atteggiamento. Esatto. Ho rammentato queste parole di Dio. Con quale parametro si giudicano buone o cattive le azioni di una persona? Dipende dal fatto che una persona, nei suoi pensieri, espressioni e azioni, possieda la prova di praticare la verità e viverne la realtà. Se non hai questa realtà o non la vivi, sei senza dubbio un malfattore. Dio come vede i malfattori? I tuoi pensieri e i tuoi atti esteriori non rendono testimonianza per Dio. Né svergognano Satana, né lo sconfiggono. Invece svergognano Dio e sono pieni di segni che lo fanno vergognare. Non stai testimoniando Dio, né ti adoperi per Lui, né adempia i tuoi obblighi verso Dio. Invece, agisci nel tuo interesse. Cosa significa realmente nel tuo interesse? Nell'interesse di Satana. Pertanto, alla fine Dio dirà Allontanatevi da me, malfattori. Agli occhi di Dio, tu non hai compiuto buone azioni, anzi, sei stato malvagio. Non otterrai l'approvazione di Dio e verrai condannato. Cosa può ottenere qualcuno con una simile fede? Una fede di questo tipo non risulterebbe inutile? Amen. Amen. Le parole di Dio mi hanno aiutata. Egli scruta il cuore di tutti. Non guarda quanto lavoro svolgiamo o quanto soffriamo, ma se le persone svolgono il loro dovere per Dio o per se stesse, e se hanno la testimonianza di praticare la verità nei loro doveri. Cercare di soddisfare se stessi nei doveri, per Dio è malvagità, qualcosa che Egli detesta. Grazie alla parola di Dio, ho visto che compivo il mio dovere pensando a me stessa. Per evitare responsabilità, a prescindere da quanto tempo rubassero quei problemi, modificavo un'immagine più volte. Andavo contro la mia stessa volontà per fare quelle revisioni, peggiorando i video sempre di più. Ho rallentato il lavoro della casa di Dio senza alcuna pressione o preoccupazione. Ne ho cercato di aumentare la produttività ricercando i principi. Nel mio dovere, agivo meccanicamente e pensavo di fare bene ad apportare le modifiche approvate da tutti. Ero irresponsabile. Quello non era compiere il mio dovere, né accumulare buone azioni, ma solo malvagità. Questo è il momento cruciale di diffusione del Vangelo e c'è urgenza di diffonderlo con questi video online. A causa della mia indole corrotta, io ripetevo il lavoro e ritardavo gli upload. Per proteggere i miei interessi, ho ostacolato il lavoro. Agivo come serva di Satana e intralciavo la casa di Dio. Capirlo mi ha terrorizzata. Ho subito pregato Dio, chiedendogli di guidarmi a cambiare atteggiamento verso il dovere e a risolvere la mia corruzione. In seguito, quando ricevevo diversi suggerimenti, per prima cosa pregavo e ricercavo davanti a Dio. Analizzavo quali cambiamenti fossero necessari e quali no e pensavo a come ottenere risultati migliori. Davanti a cambiamenti inutili, esponevo le mie opinioni sulla base dei principi. Ricercavo e tenevo condivisioni e alcune delle mie idee venivano accolte. Mi sembra ottimo. Praticare in questo modo ha aumentato la mia produttività. Lode a Dio. Quando cerchiamo la verità e agiamo secondo i principi, diventiamo più efficienti. Giusto. Pensavo di essere cambiata, ma quando ho dovuto assumermi delle responsabilità, sono man mano tornata passiva. Una volta, ho realizzato una vignetta e tutti avevano opinioni diverse su alcuni dettagli dell'immagine. Neanche dopo aver discusso e condiviso, riuscivamo a decidere e siamo rimasti bloccati. In realtà, sapevo che se una vignetta è ben fatta e tutte le proporzioni si conformano alla realtà oggettiva. non c'è bisogno di indugiare. Tuttavia, dopo così tanti suggerimenti, non sapevo cosa fare. Se avessi modificato come volevo, cosa sarebbe successo se ci fosse stato un problema? Sarebbe stata una mia responsabilità. Temevo di essere incolpata di un eventuale errore, così ho realizzato più versioni in base ai suggerimenti di tutti, aspettando che la maggioranza decidesse, ma alla fine, nessuno mi ha dato una risposta chiara. Col passare dei giorni, la mia ansia aumentava. Non stavo rallentando la produzione di un video? Ero molto preoccupata. Così mi sono chiesta perché è così difficile per me decidere. Perché mi sento come se avessi le mani legate, mi sento in trappola. Ho pregato e ricercato davanti a Dio. Gli ho chiesto di guidarmi a riflettere. Poi ho letto un passo della parola di Dio. Guardiamone un video. D'accordo. Dio Onnipotente dice devi essere una persona sincera, devi avere senso di responsabilità quando affronti i problemi e devi trovare il modo di ricercare la verità per risolverli. Non essere una persona in fida. Se di fronte a un problema ti sottrai alle responsabilità e te ne lavi le mani, persino i miscredenti ti condanneranno. Pensi forse che la casa di Dio non lo farà? Il popolo eletto di Dio disprezza e ripudia tale comportamento. Dio ama le persone sincere mentre odia le persone subdole e astute. Se ti comporti come una persona in fida e cerchi di ricorrere a inganni, Dio non ti odierà? La casa di Dio ti lascerà semplicemente impunito? Prima o poi, sarai ritenuto responsabile. A Dio piacciono le persone sincere e non piacciono quelle infide. Tutti dovrebbero capirlo chiaramente e smettere di essere confusi e di fare cose stupide. Un'ignoranza momentanea è comprensibile, ma rifiutare del tutto la verità è un ostinato rifiuto di cambiare. Le persone sincere sanno assumersi le loro responsabilità. Non pensano mai ai propri guadagni e alle proprie perdite. Piuttosto, salvaguardano il lavoro e gli interessi della casa di Dio. Hanno un cuore gentile e sincero, simile a una ciotola d'acqua limpida di cui si può vedere il fondo a colpo d'occhio. E c'è trasparenza nelle loro azioni. Una persona falsa non fa che ricorrere a inganni, simula costantemente, nasconde le cose e si traveste così accuratamente che nessuno può vederla per ciò che è veramente. Le persone non sono in grado di intuire i tuoi pensieri intimi, ma Dio può scrutare negli angoli più profondi del tuo cuore. Se Dio vede che non sei una persona sincera, che sei astuto, che non accetti mai la verità, che cerchi sempre di ingannarlo e che non gli offri il tuo cuore, allora non ti amerà, bensì ti odierà e ti abbandonerà. Tutti coloro che hanno successo tra i miscredenti, che sono dotati di capacità oratorie e ingegno sottile, che razza di persone sono? Vi è chiaro questo? Qual è la loro essenza? Si può affermare che sono tutti individui straordinariamente scaltri, sono tutti estremamente astuti e viscidi, sono il vero diavolo Satana. Dio potrebbe mai salvare simili persone? Dio non odia niente più dei diavoli, persone astute e subdole. Dio non salverà affatto tali persone. Pertanto, qualunque facciate, non dovete diventare delle persone di questo tipo. Coloro che sono sempre allerta e considerano tutte le angolazioni nei loro discorsi, che vedono da che parte soffia il vento e sono scaltri nel trattare i loro affari, vi dico che sono coloro che Dio detesta più di tutti. Persone di questo tipo non potranno mai essere redente. Quando le persone sono astute e subdole, per quanto sembrino piacevoli le loro parole, si tratta comunque di bugie ingannevoli. Meglio suonano le loro parole e più esse sono il diavolo Satana. È esattamente questo, dunque, il tipo di persone che Dio disprezza maggiormente. Cosa ne pensate? Le persone che sono astute, persuasive e brave a mentire potrebbero mai ricevere l'opera dello Spirito Santo? potrebbero ricevere l'illuminazione e la luce dello Spirito Santo? Assolutamente no. Qual è l'atteggiamento di Dio nei confronti delle persone astute e subdole? Egli le disprezza, le mette in disparte e non presta loro alcuna attenzione. Le considera alla stregua degli animali. Agli occhi di Dio, tali persone indossano una pelle umana e basta. In sostanza, sono identiche al diavolo Satana. Sono cadaveri ambulanti e Dio non le salverebbe mai. Amen. La parola di Dio rivelava il mio stato. Ero sempre indecisa di fronte ai suggerimenti. Avevo paura di assumermi la responsabilità degli errori. Ero dominata da veleni satanici come ognuno per sé che gli altri si arrangino. Il saggio si protegge col non farsi coinvolgere e non si applica la legge se nessuno la rispetta. Avevo le mie opinioni, ma non le esponevo né ricercavo tempestivamente e mi ostinavo a seguire i consigli degli altri, così da non essere ritenuta responsabile ed evitare il trattamento. Esteriormente, sembravo aperta ai consigli e capace di accogliere i suggerimenti, dando così l'illusione di saper accettare la verità. In realtà, celavo intenzioni subdole e spregevoli. Ho ripensato al mio comportamento, a come mi preoccupavo di me stessa di fronte alle responsabilità. A volte, quando gli altri mi chiedevano un consiglio, cercavo prima di intuire i loro pensieri e, se concordavano con i miei, partivo da lì e aggiungevo i miei suggerimenti. Se invece avevano opinioni diverse, non condividevo le mie, temendo che se mi fossi sbagliata, mi sarei dovuta assumere la responsabilità e quindi mi limitavo a qualche commento vago. Ho visto che, vivendo secondo quelle filosofie sataniche, ero diventata falsa e astuta. Non esternavo mai il mio punto di vista, non avevo principi e agivo confondendo le persone e rendendo le mie opinioni indecifrabili. Lo reputavo intelligente per non subire conseguenze personali ed evitare di essere trattata o sostituita. Non avevo idea di stare ingannando Dio e i miei fratelli e sorelle, di essere una persona astuta. Mi stavo facendo odiare da Dio e Dio non salva le persone come me. Forse potevo ingannare i miei fratelli, ma Dio scruta il mio cuore. Se avessi continuato a ingannarlo così e ad essere irresponsabile limitandomi al minimo e non cercando i principi della verità, non avrei mai ottenuto la verità. Sarei stata di certo condannata. Sì, non avevo capito la gravità delle conseguenze. Esatto. Il mio eccesso di astuzia mi si è ritorto contro. Ero ignorante. Una volta capito questo, ho avuto paura. Volevo davvero pentirmi davanti a Dio, non potevo continuare. Certo. Poi, ho letto un passo della parola di Dio. Nella casa di Dio, debbi afferrare il principio del dovere che svolgi. Saper praticare la verità significa agire secondo principio. Se qualcosa non ti è chiaro, se non sei sicuro di cosa fare, tieni condivisioni per ottenere il consenso altrui. Una volta stabilito cosa è più vantaggioso, per il lavoro della Chiesa e per i fratelli e sorelle, fallo. Non essere vincolato dalle regole, non rimandare, non osservare in modo passivo. Se resti sempre un osservatore e non hai opinioni, se prima di agire aspetti che qualcun altro decida e quando nessuno lo fa, ti limiti a prendere tempo, quale sarà la conseguenza? Rovinerai ogni lavoro e non otterrai risultati. Se qualcosa ti è chiaro e tutti dicono che va bene così e affermano che tale lavoro debba essere svolto ed è di certo guidato da Dio, allora dovresti farlo. Non temere di assumertene la responsabilità o di offendere gli altri. Se le persone non risolvono problemi concreti, fanno sempre calcoli ed evitano le responsabilità, di sicuro nutrono troppe trame diaboliche. Quanto è malvagio voler godere della grazia e delle benedizioni di Dio e non fare nulla di concreto. Queste persone subdole sono le più disprezzate da Dio. Indipendentemente da ciò che pensi, non stai mettendo in pratica la verità. Le tue considerazioni e le tue idee hanno priorità. Dio osserva queste cose, Dio sa. Pensavi non fosse così? Sei davvero stupido. Pertanto, se tu non ti penti subito, perderai l'opera di Dio. Ce n'è un altro. Posso leggerlo io? Certo. Qui. Che espressioni ha una persona sincera? Anzitutto, non nutre dubbi sulle parole di Dio. Questa è una delle prime espressioni. La più importante tra le espressioni inoltre è ricercare e praticare la verità in tutte le questioni. È fondamentale. Se dici di essere sincero, ma metti sempre in secondo piano le parole di Dio e fai sempre quel che vuoi, ti comporti forse da persona sincera. Tu dici «Sono di scarsa levatura, ma ho il cuore sincero». Quando però ti spetta un dovere e hai paura di soffrire o di assumertene la responsabilità, perciò trovi scuse e lo rimandi ad altri. Questa è l'espressione di una persona sincera? Chiaramente no. Non lo è affatto. Come deve comportarsi allora? Deve accettare e obbedire e compiere il proprio dovere al meglio e con devozione, sforzandosi di soddisfare la volontà di Dio. Tutto questo si esprime in vari modi. Uno di essi è che devi accettare con sincerità il tuo dovere senza pensare ai tuoi interessi o essere tiepido, non tramare a tuo beneficio. Ecco un'espressione di sincerità. Un altro modo è compiere il tuo dovere con tutto il tuo cuore e la forza, agire in modo corretto, metterci il cuore e l'amore per soddisfare Dio. Questo dovrebbe esprimere nel suo dovere chi è sincero. Amen. Amen. Dalla parola di Dio, visto che Dio ama i sinceri, non importa essere ignoranti o di scarsa levatura, ciò che conta è avere un cuore sincero, non tenersi le cose, ma esternare le proprie idee, fare comunione con gli altri su ciò che non si capisce, agire secondo i principi e fare ciò che giova al lavoro ed essere leali nei propri doveri. Questo soddisfa Dio? Sì. Dio scruta il cuore delle persone. Se facciamo del nostro meglio, pur non commettendo errori per scarsa levatura o perché non comprendiamo la verità, impariamo comunque qualcosa. Se accettiamo la verità, la ricerchiamo e rileviamo subito i problemi, ci smarriremo sempre meno nel tempo, padroneggeremo i principi e svolgeremo bene i nostri doveri. La casa di Dio non condanna mai le persone per un solo errore. È vero. Una volta capito questo, mi sono sentita più sollevata. In seguito, ho fatto comunione con una sorella sul mio recente stato. Mi ha aiutata con pazienza. Ricercando e condividendo con lei, ho corretto un'idea sbagliata che avevo sempre avuto. In passato, temevo sempre che se avessi rifiutato i loro consigli e avessi offerto opinioni diverse, sarei sembrata arrogante e incapace di accettare la verità. In realtà, non riuscivo a distinguere tra arroganza e difesa dei principi. Sostenere i principi significa, ricercando la verità, determinare le pratiche che tutelino gli interessi della Chiesa e continuare a sostenerle senza scendere a compromessi quando altri obiettano. Anche se esternamente può sembrare arroganza, questo è difendere la verità. L'arroganza, invece, è sentirsi sempre superiori agli altri, credendo che le proprie opinioni e idee siano corrette. Quando gli altri offrono altri punti di vista, ci si ostina senza ricercare, dichiarando giusto ciò che ha sbagliato. Queste opinioni vengono dal giudizio personale e non trovano fondamento nei principi. Eppure, si pretende che gli altri le ascoltino. È un'indole satanica, segno di arroganza. Ho ricordato diversi fratelli rimossi. Alcuni di essi volevano fare le cose a modo loro. Non prendevano sul serio i suggerimenti dei loro fratelli, né ci riflettevano su. Sostenevano sempre le loro ragioni e non erano disposti a migliorare. Ciò su cui insistevano non era mai in linea con i principi. Erano solo le loro opinioni personali. Così si manifesta l'arroganza. Quando mi arrivavano opinioni diverse, reputavo alcuni suggerimenti inappropriati. Ma se avessi saputo valutarli secondo i principi, non sarebbe stata arroganza, bensì sostenere la verità. A volte, quando non capisco i problemi o non afferro qualcosa, esprimere le mie opinioni e condividere con gli altri non significa persistere sulla mia strada, ma capire i principi prima di agire ed essere seria nel mio dovere. Capite queste verità? Ho provato un grande sollievo. Lode a Dio. Da questa comunione anche io ho capito che per discernere tra la difesa dei principi e l'arroganza, dobbiamo capire se le nostre idee siano in armonia con la verità. Se lo sono, allora stiamo sostenendo i principi della verità. Se persistiamo su assurdità non in linea con essa, siamo arroganti. Giusto. Da allora, quando ricevevo troppi suggerimenti nel mio dovere, pregavo Dio per calmarmi, cercavo i principi pertinenti e su quella base valutavo la necessità delle modifiche. Prendevo anche l'iniziativa e usavo le mie idee per comunicare. Una volta, ho finito uno sfondo per un video e il mio leader mi ha detto che il colore non era adatto, era meglio cambiarlo. Ho pensato fare queste modifiche richiederà molto lavoro e ritarderà il caricamento del video. Questa modifica non ha a che fare con i principi, è solo una questione di gusti. Però, se non la faccio, il mio leader non mi riterrà arrogante e incapace di ascoltare gli altri? Stavo di nuovo esitando. Così ho pregato Dio affinché che mi guidasse a praticare secondo i principi. Finito di pregare, ho trovato del materiale e ho ricercato i principi pertinenti con i superiori. Ho anche fornito le mie opinioni. Il leader e il supervisore erano d'accordo con me e in breve tempo il video è stato messo online. È meraviglioso. mi ha reso molto felice e sicura. Se ripenso alla mia esperienza di allora, vedo che per fuggire le responsabilità mi sono frenata nel mio dovere con preoccupazioni di ogni tipo. Vivere in quel modo era faticoso. Invece, quando praticavo secondo i principi della verità, i problemi erano facili da risolvere e il mio dovere era molto più semplice. Esatto. Dopo questa esperienza, ho davvero capito che vivere secondo filosofie sataniche rende le persone false e indegne della fiducia degli altri. È vero. Solo praticando la verità e compiendo il proprio dovere secondo i principi si è benedetti. Comportarsi così dona sicurezza e una pace e una gioia autentiche. Dio sia lodato. Lode a Dio. La Tua condivisione mi fornisce una via di pratica. La Tua condivisione